Siamo un fondo di investimento che fornisce capitale a dei giovani o meno giovani ma con grandi idee che vogliono lanciarle e li forniamo normalmente dai 50.000 ai 200.000 euro chiedendo in cambio non degli interessi come fa una banca ma una piccola quota di capitale dall'1 al 10% dell'azienda in funzione dello stadio in cui si trova. Li supportiamo nel processo di crescita sperando che questi diventino la prossima Google. Non abbiamo l'ambizione di rientrare dei nostri capitali in ogni investimento che facciamo ma semplicemente su 1 su 10 quindi siamo tolleranti a perdere i soldi 9 volte su 10 ma cerchiamo delle idee che potenzialmente possano creare appunto la versione migliore di Apple o di Google. Ho trovato molto interessante molto divertente più che altro una battuta che ho fatto durante la conferenza che è stata tenuta pochi minuti fa in cui si domandavano perché alloggiare le start up italiane in delle ville di lusso invece che nei garage. Questa è una domanda che veniva da degli americani appunto e si trovavano a visitare Epicampus. La mia risposta è il solito che siamo italiani non siamo cafoni come voi. Fortunatamente i miei interlocutori la prendono a ridere anche se c'è un fondo di verità dietro. Non esiste la possibilità di replicare la California per quello che è. Quello che funziona lì è funzionato benissimo però non si applica a tutto il mondo. Ogni paese o ogni anche regione spesso viene con una sua cultura di fare le cose e questa diversità è proprio la ricchezza che invece dovete sviluppare per creare queste nuove aziende di successo. Quindi ovviamente il modo in quale trattiamo i nostri dipendenti, li coccoliamo e tiriamo fuori il meglio da loro è ben diverso da come lo può fare un'azienda americana. Oltre a questo si cerca di selezionare le start up. Voi che cosa prediligete? Che cosa vi colpisce di più quando una persona, generalmente ci piace dire un ragazzo, viene e dice io ho questa grande idea. Sì, la verità è che non guardiamo mai le idee, ma guardiamo le persone. Le start up non sono difficili in sé per sé da fare e avere successo con le start up, sono assolutamente controintuitive. Quindi quello che noi guardiamo per assurdo non è la persona con l'idea brillante che non vuole comunicarla a nessuno, ma quella persona che invece è capace a iterare sulla propria idea così tante volte, confrontandosi con le persone, per cui questa idea si adatta, si modella, ottiene il suo mercato e poi li esplode dopo che si è appunto affinata con tantissime interazioni. E le persone che cerchiamo sono persone che siano pronte a confrontarsi con la dura realtà che la prima idea non sia quella buona. I founders migliori sono questi appunto che fanno più interazione degli altri, piuttosto che avere idee geniali all'inizio. Un'ultima domanda, forse un modo per capirvi un segreto industriale. Di cosa tratta la start up che in questo momento, se non la ritenete la più promettente, sicuramente la ritenete la più brillante? Noi abbiamo fatto 43 investimenti e adoro tutti e 43 gli investimenti. Da ognuna di queste aziende, ma soprattutto dai loro fondatori, ho appreso tantissimo e sono felice di aver fatto il percorso. Fare i pronostici è la cosa più sbagliata di tutti perché quello che sembra oggi interessante non lo sarà più domani e qualcun'altra no. L'unica cosa che posso dire è come il mercato ha recepito alcune di queste cose. Ci sono due aziende dei nostri investimenti che si sono avvicinate già al miliardo di valutazione, in cui noi siamo stati tra i primi investitori. Una si chiama Boom Supersonic e stanno facendo un nuovo Concorde, cioè un nuovo aereo che va da Londra a New York in tre ore e un quarto, che hanno già prevenduto molti aerei, e l'altra si chiama Green Scooters, che è una delle poche società al mondo che ha lanciato questo servizio di noleggio di monopattini elettrici, che sembrava un gioco per bambini l'anno scorso e oggi invece sono tra le aziende con più forte crescita in assoluto nel panorama. Allora, la ringraziamo per il tempo che ci ha potuto dedicare e devo dire che resto colpito sia durante la conferenza che durante questa breve intervista dall'affetto che ha verso i suoi dipendenti, come li ha chiamati, e le compagnie che sta facendo crescere come un buon padre di famiglia, direi, con la cura del buon padre di famiglia. Grazie, speriamo di non cambiare. Grazie, speriamo di non cambiare.